Chiamati da Cristo ad una continua conversione, possiamo progredire insieme nel cammino della riconciliazione della pace e imparare a riconoscerci gli uni gli altri come amici e a considerare le motivazioni degli altri nella migliore luce possibile. Con questo appello al dialogo e alla comunione, Papa Francesco ha ricevuto oggi i rappresentanti della Chiesa cecoslovacca Ussita e della Chiesa Evangelica dei Fratelli Cecchi, a Roma per celebrare, presso le tombe degli Apostoli Pietro e Paolo, una liturgia di riconciliazione in occasione del 600esimo anniversario della morte del riformatore Jan Hus. Il Papa ha ricordato che il rinomato predicatore e rettore dell'Università di Praga, scomunicato e condannato a morte dalla Chiesa Cattolica, è stato annoverato già nel 1999 da San Giovanni Polo II tra i riformatori della Chiesa. Occorre quindi continuare lo studio sulla persona e l'attività di Jan Hus, ha concluso Papa Francesco, la cui figura per lungo tempo è stato oggetto di contesa te cristiani, mentre oggi è diventato motivo di dialogo. Grazie a tutti.